Una app è il portale per favorire gli interventi di soccorso attorno all'operazione Lario Sicuro. Nelle scorse ore si è riunito il tavolo tecnico coordinato dal capo di gabinetto della prefettura Marcella Nicoletti, a cui hanno preso parte provincia, comuni di Lecco e Mandello, Forze dell'Ordine, Vigili del Fuoco, reparto operativo Aereo Navale e Guardie di Finanza di Como, l'autorità di Bacino dell'Ario, la navigazione Lago di Como, Areu e Croce Rossa. Per migliorare il servizio, il personale del settore TAS, topografia applicata al soccorso del Comando Vigili del Fuoco di Lecco, ha creato e presentato un portale web ed un'applicazione per cellulare Android dedicato all'operazione Lario Sicuro. L'intento è quello di uniformare le informazioni in possesso di tutti gli enti preposti a portare il soccorso tecnico urgente nell'ambito del progetto, rendendole fruibili digitalmente dalle varie sale operative, dai mesi di soccorso, dai cellulari e tablet dei soccorritori. Sono state georeferenziate tutte le spiagge lecchesi, che erano già state numerate negli anni precedenti e sono state inserite in una cartina digitale. Cliccando o digitando sull'icona che indica il Lido, contraddistinta da un identificativo univoco, si trovano le informazioni sulla località, la tipologia della spiaggia, gli accessi, l'attracco e la pavimentazione, informazioni rilevanti per gli organi di soccorso. Inoltre è possibile accedere ad un file PDF che riporta una cartina della spiaggia e alcune fotografie della stessa. Infine le indicazioni stradali dal punto in cui ci si trova sino alla spiaggia interessata. Nel portale web sono stati inseriti anche i codici di comportamento nella conduzione dei natanti, creato un fascicolletto cartaceo dove si trovano i QR code contenenti le informazioni relative alla specifica spiaggia. L'operazione dell'Ario Sicura rappresenta e si conferma un'importante ed efficace risposta al rischio connesso alla fruizione dell'Ario. Quest'estate ha follato più che mai, spiega la Prefettura.